Lu ti do un consiglio Fatti una partita al volo Per riscaldare gli animi Si si perchè io non ho mai giocato Perchè Lughe Lughe 4317 Arbitro entragli Mi ti ha che emozione Mi fate per me Stavi correndo fuori dal campo Lu Ma io chi sono? Non ho capito Il giallo Ah sono le manette gialli Ti ma non devi difendere Eccolo Mi saliva la classificazione Comunque si il portiere era fuori dai pali Lughe la porta Qua Geltrude Crossalo in mezzo Sono solo Sono solo Non l'ho segnato io Me l'ha rubata Me l'ha rubata Me l'ha rubata Me l'ha rubata Oh la gente s'entrando Veloce Lu Ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho Oh madonna Reclama la signora dell'ultimo piano lamentandosi Di questa malla Attenzione Potevo tirarla Mi sono in porta Sono entrato dentro la porta Che giocatore ragazzi che passaggio ho fatto E' finito con me E' finito lo stesso Ragazzi ho la riga nera Della cosa lì E' un bug E' un bug Luc Eccolo Mi dici il nome della squadra preciso La vergogna si chiama Io tutto in grande L'ha staccato vergogna tutto in grande Perché noi siamo dei grandi Oh Si scrive prima sto messaggio Mi aspetta che arriva la mia prima stronzata in porta Guardala No è braoooo Un gol Andate tutti non so mai vai a esultare Guardate fare il pirla guarda Tira tira GOOOOOOOL Adesso l'ho poco Scusa Scusate 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 Top Games Scusate Scusate Gol della madonna Questi sono gol Non i vostri Questi sono gol Vai lui Vai La remontata 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 Dai giochiamola Giochiamola Bravo Bravo Non c'è il portiere Metti il centro Non c'è il portiere Eh non c'è il portiere Ma sono in dieci di dietro Ho fatto gol Ho fatto gol Ho fatto gol Io 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 Grande Luque Io 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 fatto passate la ragazzi dai oh 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 lo sotto lo sotto ha sbagliato passate la giuro sbagliato tasto vai a passaggio per un rimpallo è vero è vero ma che cos'è ma che malattia c'ho perché è così il giocatore è anche più follo dice che cazzo è il campo si chiama si chiama zero si chiama raga che cazzo è ma sono seri sta usando i giocatori baggati è un cittone 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 ma che roba è scusa mi si è verificato un errore nelle seguenti applicazioni c'è 34 278 è sì ma forse perché di quel giocatore tutto baggato che sai che cazzo è successo ma anche adesso si si mi si è bloccato mi si è chiuso io ci ho mandato gli account no e perché che abbiamo fatto niente di male è tutto pronto si comincia marchisio subito avanti per alessandro prova la falcata ce la fa anche entra in aria il cross dentro di bala 1 0 per di bala 1 0 per l'unico napoli 0 al trentacinquesimo minuto gol di testa di di bala inserimento bellissima l'incrocio dei pali insieme io non sto segnando insieme palla dentro per alla noccio dentro l'aria al tiro buffon para va bene raga va bene così viene giustiziato però no non è in fuori gioco ho visto male io chi è giusto ma che gol di carambola 1 a 1 juventus napoli si ricomincia da 0 adesso palla indietro per alan ancora kayak con potrebbe provare a metterla dentro lo fa a basso insegna il tiro buffon calcio d'angolo per il napoli grandissima azione attenzione superata dalla roma attenzione c'è uno adesso una stessa fascia c'è l'uomo che prova a supertrare sul lato destro del del campo ma viene contrassato e di nuovo higuain quando c'è il gol ma quasi salvato ma che cazzo è successo è successo qualcosa è successo qualcosa che trema che cos'è che cos'è già l'uomo te lo giuro ho cercato mille mattine sti bug non sono mai successi mai 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 ai della juve a mesi che porta palla insegna sulla destra la mette al centro attenzione arriva di testa col dris mertens gol di trilli questa è infatti eh ma è solo per la stazione però poi prendo palla io e niente ha preso palla juk e niente 29 minuti più recupero palla dentro gol della juventus intanto occhio 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 ora il secondo gol di dibala dibala un abbraccio ciao a tutti buonanotte ciao a tutti buonanotte buonanotte ciao a tutti buonanotte ciao a tutti buonanotte ciao a tutti buonanotte